Ho lasciato anche nell'appuntamento con Dario Patacini e con il sottoscritto in serraglio misto con noi come sempre il mercoledì mattina. Si parla di cucina con Katia in cucina. Buongiorno, come va? Ciao Francesco, bene, come senti mi è tornata la voce? T'è tornata la vocina? Finalmente, sì dai. Finalmente, la vocina è tornata, per cui insomma siamo a posto. Io dovrei fare una manovra di quelle molto tipo una cosina del genere, no? Però devo spostare perché, come sempre, il mercoledì noi non vediamo l'ora, perché io poi fra l'altro le vedo solamente, ma... Non riesci mai ad assaggiare nulla? Non riesco mai ad assaggiare nulla, purtroppo c'è questa cosa qua. Vabbè, pazienza. Insieme dicevo a Katia, oggi parliamo di che cosa? Ti ricordi cosa avevamo detto l'altra volta? Forse no. No, io sono anziano. Passiamo sempre sul tema degli avanzi, no? Sono finite le feste, rimangono parecchie cose, l'altra volta abbiamo parlato del panettone e del pandoro, questa volta della frutta secca, in particolare delle noci, perché ho portato un bellissimo libro che si chiama Ti do una noce, scritto da Manuela Fiorini, sempre della Collani Quaderni dell'Oggione, che parla delle noci. Delle noci. Per cui presumo, deduco che oggi parleremo di noci? Sì, oggi parliamo di noci. Ecco, quelle che ci sono là, poi dopo te le posso fregare? Sì, puoi fregarmele. Hai visto cosa c'è di fianco anche? No, non vedo niente, ci sono delle... Delle pallette. Delle pallette, ma il colore è molto molto invitante. Saranno delle polpettine? Sì, sono delle polpettine, dopo ne parliamo con calma, di ricotta e noci, poi ci sono altre cose, ed è un modo anche quello per utilizzare gli avanzi di noci. Se ti rimane, non so, capita, no? Sai che la frutta secca nel periodo natalizio va molto, può succedere che rimangono delle noci, no? Delle noci, arachidi, insomma, la frutta secca. E quindi puoi fare tante cose. Io ne propongo qualcuna, poi ovviamente, insomma, si possono fare anche altre cose, perché di ricette qui ce ne sono davvero tante. Poi vediamo se sei curioso. Sì, vabbè, io sempre sono curioso. E invitavo, ovviamente, per chi volesse, 051-3204-07, se avete, non so, una ricetta con le noci, perché poi in cucina le noci vengono usate veramente tantissimo, per cui saremo ben lieti, insomma, di sentire anche la vostra ricetta con le noci. E poi, come al solito, aspettiamo le ricette degli ascoltatori, no? Per fare il libro. Esatto, quello, ovviamente, le ricette vengono inviate a ciao radio, chioccia o ciao radio, punto com. O possono anche chiamare direttamente in trasmissione, se voglio. Esatto, e poi, ovviamente, ci sarà questa possibilità, insomma, di diventare protagonisti di questo libro, appunto, con Katia in cucina. Comunque, le ricette stanno arrivando. Il mangiare, devo dire, che tira, insomma. Poi, alla fine, gira che tiri, gira, devi sempre... Non sempre, esatto. Eh, devi sempre mangiare, poi le cose migliori o le decisioni migliori, come diceva qualcuno, vengono prese a tavola, per cui... Io sono convinta di sì, non è un caso, ne abbiamo già parlato anche altre volte, no? Anche, quante volte, per lavoro, si dice si va a cena, si va a pranzo. Si va a cena, fa una colazione di lavoro, un pranzo di lavoro. E le difese, i conflitti davanti a un bel piatto, soprattutto se è invitante, secondo me, si placano. Ah, beh, quello sì. Anche se non so, se vuoi corteggiare una splendida donna, cosa fai? La porti a cena. La porti a cena. Eh, però bisogna scegliere bene il locale. Beh, quello sì. Vuoi prendere, come dire, un uomo, cosa fai? Per la gola. Per la gola, ovvio. Sentiamo chi c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dare una ricetta per la torta di noci, che ho visto, che parlate di noci stamattina. Lei da dove ci chiama, signora? Da 300 metri da voi. Ah, praticamente dietro l'angolo, poteva venire qua ospite. Direttamente, esatto. Dalla tozza. Ah, beh, allora siamo vicinissimi. Ci dica, lei si chiama, scusi, signora? Tiziana. Tiziana. Allora, questa ricetta con le noci, giusto? Con le noci, una torta di noci favolosa. Ma è dolce o salata? Eh, dolce, dolce. Ah, che meraviglia. Sentiamo. Ah, sento pianissimo. Sono 400 grammi di noci già pulite. Mhm. Poi? 300 grammi di zucchero a velo. 300 grammi di zucchero a velo. Poi? 250 di cioccolato fondente fatto a tocchetti. Fondente? Fondente, sì, sì, fondente. E sei uova. Uelà, sei uova. E una buccia di limone grattugiata. Tutto lì. Ripetiamo velocemente gli ingredienti, signora. Allora, 400 grammi di noci pulite. Di noci pulite, sì. 300 grammi di zucchero a velo. Mhm. Cioccolato fondente a tocchetti 250. Sì. Sei uova. Mhm. E la buccia di un limone grattugiato. Mhm. Questi sono gli ingredienti. Senza farina, senza levito. Senza farina, senza levito, senza niente. Fantastico. È favolosa. Favolosa. È buona? Lei ce l'assicura? Mio figlio, quando si avvicinano alle feste, dice, mamma, te la prenoto perché lui non è pazzo per le gioci. Ma questa è favolosa. Eh. Me l'ha data una mia amica di Budrio tanti anni fa e vi posso garantire, in forno a 180-40 minuti. È buona. Ed è favolosa. La accompagna con qualcosa o così? No, no, è talmente golosa lei che guarda. È sufficiente. È sufficiente. Signora, la posso prenotare anch'io? Francesco. Ah, io quando si parla di mangiare non... Io ho scoperto il vostro canale ieri sera. Non vi conoscevo, vi ho contattati subito. Grazie mille, signora. Grazie. Continuiamo a seguirci. Grazie mille. Arrivederci. Sì. Oh, abbiamo sentito... Fantastico. Fra le altre cose ti dirò, io sono attirata molte volte dalle torte senza lievito, senza farina. Eh, sono buone. Perché uno pensa sempre che i dolci devono farsi assolutamente con i lieviti. E questa torta deve essere davvero squisita. L'abbinamento noce e cioccolata. Hai preso gli ingredienti? Sì, anche perché la inseriremo nel libro, no? Eh, fai una cosa. Poi, casomai, prossima settimana la provi. Sì, la mettiamo sul promo così la signora Tiziana la può vedere in tv, cosa dice. Eh, mercoledì prossimo. Sì, no, quello sì, quella è l'idea, è bellissima. Però dicevo, casomai la prepari tu a casa. La preparo e poi la porto. Io faccio l'assaggiatore ufficiale, no? Ok. Non ti convinto di queste cose. Dovremmo chiamare la signora Tiziana per sapere se... Eh, chiameremo la signora... Vabbè, visto che è a 300 metri, la possiamo chiamare. Eh, potrebbe. Insomma, con le noci che rimangono, chiaramente perché è una cosa che si usa nel periodo di Natale. Infatti vedi, lei fa questa squisita torta. Eh, durante il periodo di Natale o comunque in questo periodo che comunque le noci ci sono, no? Sì, 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 no, in questo è il periodo delle noci, per quello ho proposto anche... E poi i medici addirittura consigliano di mangiare tre noci al giorno. No, la noce fa benissimo, tra le altre cose. Guarda, veniva utilizzata... In questo libro ci sono anche varie... Spiega un po' come veniva utilizzata. Pensa che nell'antichità veniva utilizzata anche contro il verme solitario. Ah, per placare? Sì, per placare le coliche renali e come ricostituente per malati, bambini e anziani. Quindi vedi tu, no? Eh, per cui l'utilizzo è molteplici e soprattutto è antichissimo, insomma. Esatto, è antichissimo. Poi vabbè, senza parlare del nocino, di quello si parlerà poi in giugno, a tempo debito, non adesso. Che viene fatto col mallo di noci, ma non è questo il periodo. In questo periodo parliamo di noci, noci. Ah, noci, noci. Bene, allora, continuiamo a parlare di noci. Questa ricetta che tra poco daremo, hai detto che è pubblicata su... Ti do una noce, che raccoglie tutte le ricette con le noci. È stato fatto da questo libro da Manuela Fiorini. Come tutti i quaderni dell'Oggione e della Damster Edizioni, oltre alle ricette, anche aneddoti, leggende, storie. È un racconto finale, sempre sulla noce. Sulla noce. E c'è di tutto, dalle marmellate di noci, agli cuori. Buonissime, devo dire. Sì, molto buone. La noce, a mio parere, si presta molto, sì, tanto, tanto. Sia per il dolce che il salato, insomma. Poi c'è anche una sezione a parte sul nocino di cui si parlava prima. Nocino buonissimo. E anche antipasti, fra cui, vedi, c'è la ricetta poi del... E invece la ricetta che proponevo oggi, quella di cui stavi parlando tu, è i gnocchi gialli, questi gnocchi, sono fatti con la farina di mais, quindi la possono mangiare anche i celiaci. È una ricetta particolare, va bene sia per i vegetariani che per i celiaci ed è buonissima anche per le persone che mangiano carne. Io ti chiedo una cortesia. Io ho un file che si chiama Noce Ciao Radio, può essere quella? Sì, è quella. Ah, è quella là? È quella, sì, è quella. Allora diamo questa ricetta così, mettiamo in sovrimpressione... Sì, diamo questa ricetta che secondo me è da fare, sì, piacerà. Per me è da fare. Bene. Io l'ho fatta e a me piace molto, gnocchi gialli al pesto e noci. Eccola qua, chi arriva. No, non è questa. Qua ci sono delle gambe di belle signorine. Sì, che era il brano di Nancy che abbiamo mandato prima. Ok, sì, è questa. Gnocchi gialli... Gnocchi gialli al pesto e noci. Che meraviglia. E leggo gli ingredienti, cosa dici? Certo, se no, se vuoi li leggo io. Eh, come vuoi. Allora, gli ingredienti per questi gnocchi gialli al pesto e noci. Allora, ingredienti per gli gnocchi. 300 grammi di farina di mais, ti faccio una domanda, se non è farina di mais si può usare un altro tipo di farina, no? No, in questo caso farina di mais. Poi, 40 grammi di burro e poi ci sono 3 cucchiai di formaggio grana grattugiato e del sale. Per il pesto ci vogliono 100 grammi di foglie di basilico, poi uno spicchio d'aglio, poi 15 grammi di pinoli, poi 3 gherigli di noci, visto che oggi sono protagoniste le noci. Poi, 5 cucchiai di formaggio grana grattugiato, poi 15 centilitri di olio d'oliva extravergine d'oliva, del sale e per la teglia, ovviamente, 20 grammi di burro. Ripeto, per quelli che ci ascoltano in radio, per gli gnocchi ci vogliono 300 grammi di farina di mais, 40 grammi di burro, 3 cucchiai di formaggio grana grattugiato e del sale. Per il pesto, invece, 100 grammi di foglie di basilico, poi uno spicchio di aglio, 15 grammi di pinoli, 3 gherigli di noci, 5 cucchiai di formaggio grana grattugiato, 15 cl di olio d'oliva extravergine, poi del sale e per la teglia, ovviamente, 20 grammi di burro. Andiamo con la preparazione. Sì, già dagli ingredienti, Francesco, si capisce che è una ricetta molto colorata, i gnocchi gialli, il pesto verde, è anche bello a livello proprio estetico. Da vedere, anche, se mi permetto, Cati. No, anche da mangiare. Sì, appunto, anche dagli ingredienti, cioè. Sì. Va bene, l'occhio vuole la sua parte. Però, quando si parla, va bene. Allora, andiamo con la preparazione di questi gnocchi gialli al pesto e noci. Allora, per prima cosa prepariamo il pesto, laviamo le foglie di basilico, le asciughiamo delicatamente con un canovaccio, le mettiamo nel frullatore insieme all'aglio sbucciato, i pinoli, i gherigli di loce e li frulliamo, tenendo presente che il basilico ossida. Quindi, dobbiamo frullare e ogni tanto fermarci, frullare e fermarci, se no, andrebbe pestato a mano e il basilico va sempre spezzettato con le mani. Questi sono proprio consigli che do perché, davvero, fa una grande differenza. Quindi, senza surriscaldare il basilico, lo facciamo frullare, poi lo versiamo in una ciotola, lo saliamo, aggiungiamo il formaggio grattugiato, stiamo attenti col sale perché il formaggio è ovviamente già saporito e ovviamente ci regoliamo, al limite lo sentiamo e chiediamo. E poi lentamente aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, finché non otteniamo il pesto con cui poi dobbiamo condire i nostri gnocchi. Prepariamo gli gnocchi, mettiamo un litro e un quarto di acqua, la saliamo e versiamo a pioggia la farina di mais, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno e cuociamo la polenta per 45 minuti. Ovviamente adesso ci sono anche le farine di mais, sai anche tu quelle istantanee, se uno non ha molto tempo può utilizzare. Si prepara in due secondi. Esatto, togliamo dal fuoco, aggiungiamo il burro a pezzettini, il formaggio grana grattugiato e formiamo gli gnocchi. Formiamo i gnocchetti e poi li cuociamo in acqua bollente. imburriamo una pirofila da forno e ci mettiamo un cucchiaio di pesto, ci distribuiamo sopra gli gnocchi e spegnaliamo con un poco di burro fuso e poi li facciamo grattinare a 180 per qualche minuto e serviamo in tavola. Io dico che non è malissimo. Assolutamente no. Cosa pensi di questa ricettina? Ah, penso, penso che è bella visivamente ed è buona. Mi raccomando, tu quando le fai non chiamare, tranquilla. No, va bene, ma adesso un giorno... E' normale che poi quando vieni qua dici, ah ma sei arrabbiato, ma per forza che sono arrabbiato e non mi fai mai sentire nulla. Eh, hai ragione anche tu, devo porre rimedio. Eh, devi porre rimedio. Sentiamo chi c'è, pronto, buongiorno. Ciao, sono Marina, chiamo dalla Pentola del Tè, sono a Bologna. Marina della Pentola del Tè, buongiorno. Ciao, Marina, Marina di... al negozio del tè. Sì, la Pentola del Tè. La Pentola del Tè, sì, la Pentola del Tè. Infatti mi chiamavo, sono un po' fuori tema, però vi volevo dare una ricetta sul tè. Una ricetta sul tè? Ah, forza, dai, dai. Sentiamo, dai, sono curioso, dai. Allora, è una torta al cioccolato alla fine, il tè viene utilizzato come decorazione, ma lascia comunque il suo reso gusto. Cioè, stamattina abbiamo la mattinata delle torte, vai, allora. 200 grammi di cioccolato fondente, 200 grammi di burro, 4 uova, 150 grammi di zucchero semolato, 60 grammi di farina stacciata, tipo 00, poi mezza bustina di lievito per dolci, e poi? E poi due, tre cucchiaini di polvere di tè macea, mescolato con un cucchiaino di zucchero a velo. Ah. È una cosa particolarissima. Sì, molto. Questa polverina che si forma si utilizzerà poi per decorare la torta sopra, con uno stampino, oppure la disegnate voi, dei disegni, dei ricordi sulla torta, insomma. Ma scusami, tu ci garantisci che questa è buona? È buonissima, ma non buona. Quando è che la fai? Non sta cercando. Quando è che la fai? Prossimamente? Adesso sì, prossimamente ci organizziamo e ve la porto. Ecco, tu mi chiami così io vengo lì a... Tu passi da mie caduti di cefalonia alla pentola del te. Cioè, è bella anche da vedere, non soltanto da vedere. Ah, immagino. Secondo me è anche buona. È buonissima. Ma bene, allora ci sentiamo, grazie mille, vi ascolto sempre. Grazie a te. Ciao, carissima. Ciao, Marina. Ciao, ciao. Allora, abbiamo sentito anche la ricetta di Marina. Una cosa particolare col te, però. Col te, sì. Sentiamo, c'è un'altra telefonata. Oggi... Pronto, buongiorno. Oggi sono scatenata. Buongiorno. Lei ci vuol... Lei con chi abbiamo il piacere di parlare? Mi chiamo Anna. Anna. Grazie, Francesco, per tutto quello che fai. Eh, da dove chiami Anna? Eh, io chiamo da Bologna, a quartiere Savena. Ah, beh. Io ho ascoltato, buongiorno, alla signora, che adesso nel frattempo ho dimenticato il nome. Katia si chiama. Ecco, benissimo. Allora, io ho sentito la ricetta precedente riguardante la torta di noce della signora Tiziana. Sì. Però, non so se è un... Non dico furbizia, ma se è un vostro modo, perché io non so come... Siccome si procede, siccome questa ricetta si piace, perché non c'è burro e mio figlio rifiuta quasi sempre il burro, come si fa? Ah, è vero. Perché io mi sto facendo delle domande. È vero, è vero, è vero. Perché la signora... Se bisogna separare le uova dal tuo oro, gli albumi, ci sono diverse cose, il procedimento è molto importante. La torta, sì, che ci aveva detto la signora... Adesso la proviamo, io propongo di provarla... Ecco, lei la prova e mi raccomando, io ci tengo. La prossima settimana noi gliela... Perché deve essere veramente buona, però il segreto è il procedimento. Chiaro, chiaro. Ha ragione, forse vanno montati gli albumi, adesso bisogna provare. E questo è molto importante, poi per esempio lo zucchero a velo forse va mescolato alle uova subito e poi vanno aggiunte le noci sgusciate, d'accordo, e la cioccolata deve essere sciolta o a tocchetti. Ci sono domande che io mi faccio. Bene, signora, noi provvederemo alla prossima settimana. Grazie tante, scusatemi. Niente, grazie, grazie. Ma voglio lasciare una ricetta, no? Io? Eh. Ah, io ho fatto un pastrocchino. Eh. Che faccio spesso, quando mi viene un po' di mal di pancia, che forse rifiuta a volte il latte. Ho messo 50 grammi di cioccolato fondente, sempre a pezzetti. Quindi, e poi 50 grammi di farina, 50 grammi di zucchero in un pentolino e un pizzico di peperoncino, che poi si può sentire strada facendo, eh. Appoggio questo sul fornello, aggiungendo piano piano, che può essere anche freddo ma non molto freddo, circa mezzo litro di latte scarso. Ah. E, ehm, però la farina la passo, eh, perché sennò rischia il grumo. Sì, la va setacciata per fare il grumo. E la metto, appunto, appena sul fuoco, lasciando il latte che si mescola pian piano e giro, giro, fino a che raggiungo quasi il bollore, perché il fornello deve essere a temperatura bassa. Sì, esatto. E poi 50 grammi di zucchero e mezzo litro di latte scarso che faccio gocciolare nel tecmino, poi mescolo, mescolo, finché si indurisce come la crema. Bene. E poi lo ripongono e lo stampo un po' bagnato, così sta più, insomma, a volte non si capovolge, eh, perché io non riesco. Ok. Ma è veramente buono. Lei questa torta quando è che la prepara? Non è una torta, non è una torta, è un budinetto. Un budinetto. Per esempio, oggi viene il pedicure alle tre, il poveretto forse non avrà mangiato bene perché è stato da altre. Signore, io le do uno stampino del mio... Ebbè, è io? Ebbè, venga a trovarmi. Lei mi sta simpatico, le assicuro che non le faccio niente, eh. No, tranquillo. Non salto addosso, le do solo il budino. Grazie mille signora, grazie per averci chiamato. Buona giornata. Grazie anche la signora, di nuovo. Grazie, bene. Grazie alla nostra amica e ne abbiamo un'altra di telefonata oggi. Oggi sono scatenato. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo dire alla signora del quartiere Savana, la procedura della torta di noci. Ah, ok, perfetto, che mancava. Ah, ok. Sentiamo, dai, così diamo una mano alla signora. Le noci vanno tritate, tritate ma non finissime. Ok. Il cioccolato va a tocchetti e si mette tutto insieme. come uova, cioccolato, una bella mescolata, lo stampo imburrato e in forno. È di una semplicità infinita. È molto semplice anche da preparare. È certissima, non c'è da montare albumi, non c'è da fare niente. Ah, perfetto. Niente, vanno tritate le noci, ma non strafine. Due giri dentro un mixer vanno già bene. È proprio una torta perfetta da preparare anche se hai poco tempo. Esatto, perché quando ci sono le noci tritate, dopo si fa in un attimo. Bene. Perfetto. È semplicissima. Signora, grazie mille per aver seguito. Grazie mille per aver seguito. Esatto, grazie. Grazie, arrivederci. Oh, vedi che meraviglia. Subito pronto. Abbiamo un'altra telefonata. Stamattina non andiamo più avanti. Chi è? Buongiorno. Quella, buongiorno. Buongiorno. Io sono nominata la Sherie per la Romagna. Quella. Sono salito di classe, Ravenna. Buongiorno, Sherie. Buongiorno. Buongiorno. Mi conoscono tutti Sherie perché ho vissuto 25 anni a Ginevra. Io ho cominciato a dire Sherie. Agli altri, se sono tutti, mi chiamano Sherie. Ci dica, Sherie. Allora, ascolta, io ho una ricetta che le persone che non mangiano il dolce, quello lo mangiano benissimo. È molto semplice, non c'è bisogno di conservazione in frigo, niente. Dunque, sono 200 grammi di cioccolata fondente. Eccola là. Io ho la grande fortuna che me la portano di Ginevra. Eh, che buona. Quindi, 200 grammi di cioccolata fondente è sciolta a bagnomaria, logicamente, piano piano il fuoco. Ok. Poi ci batte così a forchetta e quattro uova bianco e rosso insieme, poi di quattro uova ci mette quattro cucchiaia di zucchero. Sì. Zucchero semolato, quello normale. Poi, poi, deve macinare delle mandorle. Si vuole fare anche un misto, è buonissimo. Eh, immagino. Mandorle, nocciole o anche un po' di noci. È squisito. Allora, niente, fa fondere questa cioccolata, eh. E poi dopo con lo zucchero via e con le mandorle le mette nello zucchero, nelle uova, pardon, nelle uova battute, le mandorle, tutto. Dopo versa tutto nel tegame dove c'è la cioccolata. Da così si ramazza tutta la cioccolata, giusto? Sì. Le gira bene, 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 bene. Ma bene, 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 però, eh. Non ci sono grassi, non ci sono farine. Sì. Non ci sono lieviti. È naturale, è naturale. E gli dico che tutte le persone che la mangiano, tutti me la richiedono. Perché le persone che non mangiano i dolci, quella con quel saporino di cioccolata fondente che può amaretta, è squisita. E poi, niente, la mette nella sua teglia. Io poi c'ho tante forme, per esempio a Natale faccio la stella di Natale, a Pasqua faccio, a forma di uovo di Pasqua, c'ho tante forme che le faccio, dipende all'occasione. Poi la mette in forno, ci vorrà, non so, mica a forno, non troppo forte, non so, un 180, 150. Poi dopo la vedono, quando fila dentro uno stecchino che esce fuori pulito, è cotta, non troppo cotta. Poi la tira fuori, dopo che si è raffreddata un pochettino, che la leva già da là, bisogna levarla ancora quando è caldina, se no si appiccica. Sì. E poi ci mette un po' di zucchero filato sopra, zucchero, 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 valliato. Sì. E poi dopo se la guarnisce come vuole, se è un compleanno ci mette le candeline, se è un'altra occasione ci mette un po' di cosine per fare la più bellina. Quella non va conservata in frigo, può stare anche fuori. Ah, non importa. Ecco, non è esigente di niente, è esquisita. Bene. Io partecipo anche quando facciamo a Cervia il giorno della torta, tutti portano la sua specialità, io porto sempre quella. E noi siamo qui. Va bene, io mi ha fatto piacere mettermi in contatto con voi, vi ascolto tutte le mattine. Grazie. Perché è un programma che io ascolto sempre, in tutte le occasioni, sono molto conosciuta di musica. Esatto. Grazie mille, Cervia, buona giornata. Buona giornata, buona giornata, buona giornata, buona giornata. Esatto. Alla prossima, grazie Cervia, buona giornata. Ciao, 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 buon appetito. Allora, ricette con tantissimo cioccolato, con le noci, fantastico. Sì, ho una fame, carissima, splendida Katia, noi siamo arrivati alla fine, perché praticamente con tutte queste telefonate oggi... Vabbè, le palline te le spiego la prossima volta, come sono fatte a questo punto, le puoi assaggiare, basta. Le assaggio e poi ve le racconto mercoledì prossimo, va bene? Se no, se uno vuole, può prendersi il libro, c'è la ricetta. Eh, vabbè, dai, casomai la prossima settimana ritorniamo. E la ricetta dell'ascoltatore la leggeremo... La prossima settimana, era questo polpettone, no? La prossima settimana, sì, era il polpettone. Abbiamo un ospite, però, eh. Facciamolo presente, abbiamo Daniela, dell'acqua calda per il tè, che ci verrà a parlare delle spezie. Ah, ok. Le spezie sono molto usate in questo periodo, sono molto di moda anche loro, lo vendero, per esempio, viene usato tantissimo. E lei ci racconterà un po' le tradizioni, le curiosità, ricette, segreti. Penso che può essere molto interessante, esatto. Vabbè, troveremo due secondi anche per leggere la ricetta del polpettone del nostro ascoltatore. Bene, va bene. A questo punto noi vi salutiamo. Adesso c'è, lasciamo il posto a Stefano Montebugnoli, ovviamente. Operatore della pulizia stradale del comune di Bologna. Ahimè, abbandoniamo il tavolo da cucina. Da cucina. L'appuntamento è per mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo con Daniela. Ciao a tutti. Ciao.